ciao patatine allora non faccio i frogmas partiamo da qua non è che vi faccio un video ogni giorno anche se vorrei farlo ma già so che non ci riuscirei comunque vi voglio fare piccole cose diciamo allora fuori non so se riuscite a vettere si fuori c'è stata la serie di lampadine eccola la che esercente si spegne cammina fa e qui c'è il mio albero ancora non è finito labbro allora lo vedete così che l'ho voluto fare ci ho messo le palline dell'anno scorso ci ho messo una serie di lampadine qui ci sa ancora il il puntale che ci trovo mette e ci sa ancora il mantello che troverà tacci sopra e ci sono ancora i fili che ci trovo mettere sopra l'ho voluto fare così solo così per adesso ma dovrò finirlo a riempirlo coprovate palline anche se vi avevo detto che lo volevo fare blu e anzetto ma ho visto un po su internet ho cominciato a vettere per internet su youtube per tante tante altre parti non ho mai non si potrà più fallo solo blu e anzetto o rosso e oro ma si potrà fallo di tutti i colori e cosa ho pensato di comprare pensi a tre palline non mettete niente solo sto con il piciamone perché sento freddo ho deciso di farlo colorato in che senso colorato comprare anche palline in viola rosa ropa cipra bianche rosa delicato ancora palline di tantissimi colori anche qualche pallina verte verte chiaro verte opaco verte lucido comunque lo voglio un po e pieti più palline il mio appello il mio appello è un mt 80 il mio appello lo voglio finire tiempli e tippa linee e quanto sarà finito completamente comunque ve lo farò avete finito completamente tutto come mi piace a me il mio appello il mio appello il mio appello l'ho fatto oggi insieme a mio marito comunque deve finire devo finirlo a prepararlo e prepararlo ma diciamo finirlo ti il vestillo ti metti il mantello il puntale e tutto portarsi che anche quest'anno camperò il puntale non ci metterò più la sella per neanche ci coprirò un'altra cosa che mi piace tanto 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 ho la televisione accesa e vero su real time perchè s'hanno facciato il post delle cerimonie credo che lo conoscete se guardate real time purtroppo ieri si è spento oggi sono stati i funerali e ora s'hanno facciato vedere le quattro stazioni che lui ha fatto di il post delle cerimonie su real time s'hanno facciato vedere e niente questo vi volevo vedere il labbro lascerete le patatine che sa fuori e niente queste patatine mie care spero che vi piaccia a me personalmente come mo no però come mi avete chiesto il video che lo volevate vedere metterlo anzi vi volevo metterlo facevo ma non mi è stato possibile ve lo faccio vedere così e poi mano a mano che compro palline comunque io l'ho fatto molto in anticipo perchè io lo faccio all'immacolata l'apro l'8 dicempre l'ho fatto oggi che ne abbiamo 2 dicempre piccio e ancora presto cioè mano a mano che copro atti palline potessi che copro atti occhettini tramettele e non solo palline vi vorrò vedere mano a mano com'è vera ma non fate caso alle mie 3 dita 1 e 2 che se ne sono cattute le occhie comunque questo discorso a parte se lo volete sapere mi lasciate i commenti sotto al video cosa mi è successo alle unchie perchè se ne sono cattute subito mentre qua sulla mano testa ce ne ho solo 2 e sulla sinistra per fortuna ce le ho ancora tutte e 5 intatte le unchie però vi spiegherò intanto io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao